Siamo veramente vicini a Pasqua, ma siamo ancora in tempo per realizzare questi simpatici cestini porta ovetti da regalare, da utilizzare come segna posto, insomma potete farne quello che desiderate tra l'altro sono adattabili anche ad altri usi, se li guardate svuotati dagli ovetti possono essere e diventare delle bomboniere L'ultimo tutorial che vi ho proposto era relativo invece a questi cestini realizzati con colla a caldo, semplicissimi il link per realizzarlo è nell'info box, via il tutorial Allora, bando alle ciance, nell'info box trovate già tutte le informazioni per comprendere come lavorare in tondo sia a spirale che a cerchio chiuso Qualcuno mi chiede dov'è l'info box? Sotto il titolo, di fianco al titolo del tutorial sulla destra del monitor trovate una freccetta che tira giù tutto l'info box oppure secondo i browser che utilizzate potrebbe semplicemente essere utile dove trovate l'inizio della descrizione del contenuto del video tirare giù una freccetta e trovate tutto Allora, abbiamo detto 3 catenelle chiuse insieme da una maglia bassissima a questo punto noi all'interno della maglia bassissima all'interno proprio andiamo a lavorare 6 maglie basse 1, 2, 3, 4, 5 e 6 A questo punto, anche se io non lavoro a cerchio chiuso perché di solito il marca punto serve per il cerchio chiuso quindi per andare a definire dove inizia un giro dove finisce l'altro lo metto lo stesso lo stesso soprattutto per chi non l'ha mai eseguito però torno a dirvi andate a vedere soprattutto la spiegazione molto più precisa che è riportata in infobox Allora, faremo prima un tote di giri di lavorazione in tondo quelli che desiderate a seconda delle dimensioni del vostro cestino adesso vediamo noi quante ne faremo non ricordo quante ne avevo fatte per questo cestino però è una cosa molto semplice nel senso che cioè concettualmente molto semplice nel senso che il primo giro che è composto dai 6 punti che abbiamo realizzato deve passare da 6 a 12 cosa vuol dire? vuol dire che in ogni maglia di base in ogni maglia bassa di base noi ne lavoreremo 2 ok? quindi il punto di base che è qua all'inizio è un po' che è qua sarà lavorato due volte quindi 2 4 avendo fatto 5 6 7 8 9 10 e non a caso torniamo dal nostro marca punto proprio facendo 11 e 12 questa è una cosa più che altro di controllo per chi non è ancora molto pratico ok? se volessimo lavorare a cerco chiuso a questo punto dovrei fare una maglia bassissima ma no noi lavoriamo a spirale quindi cerchio magico di 3 catenelle 6 punti all'interno della catenella in ognuno di 6 di questi 6 punti vengono lavorate 2 maglie basse adesso per semplicità di comprensione immaginiamo che questo sia il primo giro il primo giro prevede una maglia bassa prevede una maglia bassa e 2 maglie basse lavorate nello stesso punto una e due una maglia bassa e 2 lavorate nello stesso punto una e due una maglia bassa e due lavorate nello stesso punto una e due una maglia bassa e due lavorate nello stesso punto scusate ridevo da sola una maglia bassa e due lavorate nello stesso punto una e due guardiamo dov'è il nostro marca punto vedete ci manca ancora una maglia bassa e due lavorate nello stesso punto se volete proprio essendo le prime armi il marca punto ve lo potete portare in questo modo e questo è il bello del marco di usare un filo come marca punto ve lo potete portare in questo semplicissimo modo che vi sto facendo vedere al piano di sopra allora abbiamo detto concettualmente primo giro una maglia bassa due lavorate insieme una bassa lavorate insieme una ma non lavorate insieme che è nel gergo preciso sarebbe un'altra cosa due maglie basse lavorate nello stesso punto secondo giro lavoriamo 2 maglie basse la prima è quella dove mi trovo il marca punto 2 maglie basse una dietro l'altra così come il lavoro si presenta e poi due nello stesso punto di base due maglie basse e due nello stesso punto di base due maglie basse e due nello stesso punto di base questo vi permetterà di crescere senza totalmente piatti ecco insomma senza fare onde strane cose strane ancora due maglie basse e due nello stesso punto di base come vedete sono tornata dal mio marca punto ora giro 3 secondo voi come funziona 3 1 2 3 maglie basse una dietro l'altra e due nello stesso punto di base il concetto è questo ad ogni giro aumentate il numero di maglie basse vedete una due tre e qua due 1 2 3 e qua due fate così fino alla fine del giro come vedete sono di nuovo tornata dove vedete il blu quindi sono nuovamente tornata all'inizio cosa potrebbe prevedere il quarto giro se io lo volessi fare proprio il tutorial diventa infinito perché facciamo un cerchio grosso come un disco da 44 g e prevederebbe quarto giro cosa vuol dire quattro maglie basse una due tre quattro e nella quinta due lavorate insieme quattro maglie basse due lavorate insieme comunque per questo vi rimando appunto al tutorial il marco appunto lo teniamo che non si sa mai ma da da adesso in poi noi andiamo a lavorare semplicemente a maglia bassa i punti così come si presentano questo farà sì che il nostro lavoro inizi a salire dando appunto la forma del cestino quindi lavorate vedete questo è rovescio quindi a breve il lavoro prenderà la forma di conchetta lavorate le maglie così come si presentano fino sempre all'altezza da voi desiderata io non vi do delle dimensioni prestabilite perché appunto è una lavorazione questa qui del cestinetto che vi propongo oggi che va bene per cestini pasquali dell'ultimo minuto da usare come segna posto ma va bene riprodotta con fettuccia o altro materiale come porta asciugamani per il bagno insomma il modus operando è questo ma il diciamo il senso che diamo oggi è un po mignon io so già che presumibilmente conosco una persona che gioca con le barbie e che mangiati i suoi cioccolatini la userà come borsetta per la barbie quindi voi non fate altro che andare avanti a lavorare punto dopo punto così come si presenta fino all'altezza da voi desiderata ok faccio uno stop e ci rivediamo dopo ora io ho raggiunto l'altezza che desideravo che è simile a quella di questo cestino la potete verificare anche andando ad inserire all'interno gli ovetti per vedere se ci stanno secondo di quanti ne volete mettere dobbiamo a questo punto eseguire il manico e poi fare questa bordura a punto gambero che gli da proprio l'idea del cestino come potete vedere io ho cercato di fare in modo di fermarmi proprio laddove avevo il marca punto anche in questo caso visto che ognuno di voi lavorerà secondo le proprie dimensioni lo stesso manico potrà essere formato da un numero di catenelle a vostra scelta partite quindi eseguendo una serie di catenelle ed andando poi con una prova proprio di natura empirica infilate dentro tutti questi fili che poi confondono con una prova empirica di questo tipo a vedere se secondo voi l'altezza in relazione al cestino considerando che avrà ancora un punto gambero in più quindi salirà può o non può essere corretta a me sembra un po corto quindi aggiungo ancora cinque punti ma vi dico proprio una cosa che va a creatività è uno schema molto libero e anche per questo è molto semplice l'unica cosa alla quale fare attenzione è la seguente o contate i punti oppure a naso andate ad imbricare sperando nella fortuna quello che è il punto corrispondente dall'altro lato dove lavorerete una maglia dove lavorerete una maglia bassissima eccoci qua ora fate un controllo e guardate se vi sembra una cosa abbastanza corretta dal punto di vista dimensionale a me sembrerebbe di sì a questo punto tutte queste catenelle vanno tornate indietro in italiano ve lo dico vanno tornate indietro a maglia bassa ok io il primo punto tenetelo bello teso perché sennò rischia di rimanere un po rasco però fatto il primo lavorate tutte le altre maglie appunto a maglia bassa tutte le catenelle di base a maglia bassa fino arrivare alla fine dove lavorerete una maglia bassissima siamo arrivati al punto finale quindi lavoriamo come detto la nostra maglia bassissima nel cestino fate attenzione alla insomma che non si sia attorcigliato perché se voi la maglia bassissima invece che lavorano di quale lavorate di qua fa un giro un po strano poi il vostro manico quindi una maglia bassissima eccoci qua questo è il nostro cestino cerchiamo ora di capire che cos'è il punto gambero quindi questa bordura che mi permette di dare la reale sensazione del cestino è una bordura utilissima in tantissimi casi in questo caso quello che vi consiglio visto che abbiamo di mezzo il manico e noi lavoreremo come dei gamberi quindi andremo all'indietro è quello di prendere un paio di forbici tagliare il filo come ho fatto io in questo momento allora punto gambero in questo caso solo in questo caso particolare sempre solita impugnatura tiriamo giù il nostro manico lo saltiamo inseriamo l'uncinetto e ci mettiamo a lavorare a maglia bassa ma all'indietro il primo punto è un po perché in questo caso abbiamo di mezzo il nostro manico ma da da ora in poi sarà tutto molto semplice il punto gambero consiste in lavorare a maglia bassa indietro andando indietro punto dopo punto tutto così inserite l'uncinetto estraete inserite caricate estraete inserite caricate estraete state attenti perché è magari un po più facile confondersi i punti di base perché siamo proprio per logica abituati a lavorare in un altro modo ma il sistema è questo vedete si forma proprio questo orletto molto carino che è un orletto di finitura semplicissimo anche per tante altre lavorazioni per una manica per per una coperta per un per qualsiasi cosa così come appunto questi cestini se non l'ho già detto ma lo pensavo nella mia mente sono molto carini anche come bomboniere carini carini vedete noi ci lavoriamo tutti i nostri punti siamo arrivati all'altro manico lo teniamo giù anche lui lui stesso medesimo andiamo avanti sempre a punto gambero indietro manano invece andare avanti spesso nella vita e quello che accade realmente siamo quasi arrivati alla fine tutorial compreso parole varie comprese penso che siamo sui 12 minuti per realizzare questo cestino aiuto vedete siamo arrivati alla fine stavo dicendo infatti è spuntato il marca punto ultimo punto gambero e come le lavorazioni sul diritto anche punto gambero si chiude con una maglia bassissima e si tira si tira fuori il manico e tutti i fili che abbiamo abbiamo un coltello e con le forbici scusate con le forbici e inseriamo affranchiamo tutti i fili o c'è anche il tutorial per affrancare i fili che non ve lo l'ho messo nell'info box ma comunque c'è il tasto cerca nei miei video c'è in tutti i video c'è non nel mio questo questo filo lo tiro dentro che poi affrancherò tutto da dentro tiro dentro se vuole venire un po lungo poi succede alla fine di un tutorial sempre casi dei miei perché gli altri ben infatti quegli studi eccolo qua tac il nostro cesti neto bello bello uvetti anche qui ce ne stanno tre forse ne stanno anche quattro e il nostro cestino di pasqua è pronto per essere consegnato una volta affrancati i figli per fare questi due cestini ci ho messo circa una mezz'ora tutorial compreso quindi buon lavoro datevi da fare e mettete un mi piace come sempre lo chiedo se vi è piaciuto tutorial se avete delle domande da fare fatemele se non volete perdervi aspettate che uso le forbici ecco se non volete perdervi i prossimi video ricordatevi di iscrivervi al canale se non ci sentiamo più passate un buon weekend se no ci sentiamo ancora ciao ciao tanti auguri a tutti ciao